Mamma mia, mamma mia, clamoroso, clamoroso, che sorteggi assurdi, assurdo, assurdo sì, mamma mia ragazzi, incredibile, che sorteggi, cioè Real Liverpool, Bayern, PSG, Bayern, Monaco, Paris Saint Germain, che l'anno scorso si sono scontrate in finale, che big match, mamma mia, che big match assurdo. Mamma mia, anche Real Liverpool, incredibile, poi porto Chelsea, però Chelsea c'è da ricordare che nelle ultime 13 partite ha subito solo due gol con l'Atletico Madrid, ha tenuto la porta inviolata, quindi attenzione comunque al Chelsea e City, Dortmund, ma i primi due big match assurdo, che big match, mamma mia, mamma mia. Quindi subito una tra, cioè due, tra Real, Bayern, PSG e Liverpool fuori. Quindi ragazzi ora andrò anche a pronosticare i quarti di finale, allora, quarti di finale, cioè pronostico chi va in semifinale. Secondo me, allora, partiamo dal basso, qua ci va il Manchester City, ci va il Chelsea, ci va il Real Madrid, quindi semifinale composte da Real, Chelsea, Manchester City, per me, e... Mizzera Bayern, PSG, veramente difficilissima. Mamma mia. Io veramente non saprei. Forse di poco il Bayern, però siamo proprio lì, saranno degli scontri assurdi, andata e ritorno, big match clamoroso, due squadre che si affronteranno a viso aperto, due grandissime squadre, probabilmente in questo momento le due più forti al mondo. Mamma mia, che sorteggi assurdi, assurdi, andata bene a Porto e Chelsea, ma mamma mia, mamma mia, incredibile. Purtroppo non notiamo neanche un'italiana, però vabbè, perché sono state tutte eliminate, una ai gironi e tre agli ottavi. Mamma mia, mamma mia, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questi sorteggi clamorosi e niente. Noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi.